Non sono passate neanche poche ore e il video ha fatto il giro dei social. Una ragazza immerge una frisa nell'acqua di mare, ci cosparge il succo della mozzarella insaporita, ancora una volta con l'acqua salata e poi l'addenta. Sarà stato sicuramente un pranzo gustoso, ma di certo per nulla salutare. Un breve filmato che nel giro di qualche click è diventato virale e ha scatenato non poche polemiche tra gli utenti. L'intento della ragazza è chiaro, a bordo di una piccola imbarcazione inzuppa la frisa nell'acqua di mare e la condisce con tutti gli ingredienti che ha a disposizione. Un modo per dare gusto agli alimenti e all'antica maniera. Come sempre il web si divide tra chi è a favore e chi contro. Mmm che buona, frisa al pomodoro, origano e gasolio, commenta qualcuno. E poi un altro, una delizia la frisa alle schiericchiacoli. C'è chi poi vuole spezzare una lancia, o una frisa in questo caso, a favore del gesto della ragazza e scrive. Con tutta l'acqua che abbiamo ingerito da bambini siamo ancora vivi e ora ci scandalizziamo per una frisella? Oppure, la frisa sponzata al mare è patrimonio dell'umanità, scrive un altro utente sotto il video. Ma perché è pericoloso ingerire acqua di mare? L'abbiamo chiesto a un esperto. Il gesto della ragazza che emerge la frisella nell'acqua di mare prima di mangiarla non è un gesto salutare per il nostro organismo. Innanzitutto perché la salinità dell'acqua di mare va a destabilizzare il naturale equilibrio osmotico del nostro corpo e poi perché il mare da sempre è una riserva di microplastiche, idrocarburi, oli di motore, metalli pesanti e gli stessi servizi igienici rigettati dalle imbarcazioni dell'acqua di mare. Dunque l'insieme di questi fattori costituisce un habitat naturale perfetto per lo stagnarsi di batteri fecali, enterobatteri ed eventuali altri agenti patogeni che conducono a patologie gastrointestinali e simili. Il gesto della ragazza comunque non deve destare così tanto stupore. Non è la prima volta infatti che qualcuno utilizza l'acqua di mare per insaporire gli alimenti. Sembrerebbe anzi che derivi proprio da un'antica usanza di un pasto tipico dei pescatori. E voi da che parte state? Preferite rispettare la tradizione e gustare cibi ricchi di sapore o mettere da parte la golosità ed evitare di rovinare le vostre vacanze?